L'ultima nostra candidata oggi presente. Grazie a tutti di essere qui, mi chiamo Cristina Malvi, sono nata in zona Galvani e poi da sposata mi sono trasferita in zona Murri dove in questo parco ho allevato i miei figli che hanno frequentato dall'asilo nido alla scuola media. Sono molto contenta di essere candidata qui perché ho visto nella concretezza del programma e soprattutto nella competenza dei miei compagni di vista che quello che abbiamo scritto può essere assolutamente realizzato e ne siamo tutti certi perché ognuno di noi nel proprio ambito lavorativo si è speso durante questi anni e si spenderà a maggior ragione un quartiere per far valere quelle idee che abbiamo portato con noi nel comporre questa lista e quindi siamo molto contenti che voi ci aiutate a diffondere il programma, vi preghiamo di portarlo e di farlo conoscere a tutti i vostri amici e colleghi residenti in questo quartiere. Grazie a tutti.